Arriva una svolta nell'iter burocratico per la ricostruzione nel cratere sismico del centro Italia e in primis in Abruzzo. Giovanni Legnini, commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, ha appena firmato l'ordinanza 108 che stabilisce nuovi compensi per i professionisti, domande semplificate per i danni lievi e super bonus 110% per integrare il contributo. L'ordinanza condivisa unanimemente dalla cabina di coordinamento con i presidenti delle regioni e i rappresentanti dei sindaci stabilisce finalmente una procedura semplificata per la presentazione delle domande di riparazione dei danni lievi la cui scadenza è fissata entro il 30 novembre. Soddisfatto Legnini, per il commissario il nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione insieme alle disposizioni introdotte per agevolare la presentazione delle domande per gli interventi di immediata riparazione e alla nuova procedura semplificata di recupero e rapido esame delle vecchie domande giacenti da tempo hanno un solo significato, dare il via alla ricostruzione del centro Italia. Grazie a questa ordinanza sarà inoltre molto più agevole evitare gli accolli di spesa a carico dei cittadini mediante l'utilizzo del super sisma bonus. Le nuove tariffe erano attese da tempo dai professionisti e ora ci sono tutte le condizioni perché i tecnici accelerino la presentazione dei progetti e si aprano i cantieri. Ulteriori ritardi, data anche la forte semplificazione delle procedure, sarebbero ora, secondo Legnini, davvero incomprensibili.